Libero liberati sold out per 90 minuti che valgono una stagione. Dopo il pari per 1-1 nella gara d'andata al San Nicola, è vigilia di ritorno play-out per la Ternana, che attende domani sera alle 20.30 il Bari. Attesi 12.000 spettatori nell'impianto ternano, con circa 150 tifosi in arrivo da Bari, complice il divieto di trasferta ai residenti in Puglia emesso dal prefetto di Terni. Breda dovrebbe confermare in toti il 3-5-2 dell'andata, affidandosi in attacco al tandem Gaston Pereiro di Stefano. Possibile 4-3-2-1 invece per il tecnico dei Galletti Giampaolo, con l'eterno di Cesare all'ultima partita in carriera a guidare la difesa, il rientro di Maita in mediana a Campore e Sibilli fulla tre quarti a supporto di Nasti. Arbitro sarà l'esperto Federico Lapenna di Roma, che ha 12 precedenti con la Ternana, con 5 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Le Fere hanno due risultati su tre a disposizione, mentre deve necessariamente vincere il Bari, per quella che senza mezzi termini la partita più importante dell'epoca recente della Ternana, come sottolineato anche alla vigilia da mister Roberto Breda. L'energia che abbiamo dobbiamo portarla dove vogliamo noi e cercare di essere il più pronti possibile a una gara che fa una stagione. Mentre che ne so un playoff, in ogni caso mantieni a categoria. Questo ha un peso specifico certamente importantissimo e vitale anche tante volte, però bisogna farla e bisogna farla nel migliore dei modi. E credo che sia molto più importante concentrarsi su quello che possiamo trovare, poi il dopo lo vedremo, ma su quello che possiamo trovare dal punto di vista tattico, della gestione degli episodi, perché un episodio può essere più pesante di un altro e quindi nella capacità di avere più risposte possibile. E nella ricerca di trasferire queste risposte a tutti i ragazzi, perché se abbiamo su ogni situazione una condivisione di idee certamente aiuta.